Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Oggi questo è un video aggiornamento in cui volevo dirvi che sul mio canale di musica Sebastiano Serafini, che è il mio canale principale in realtà che faccio da tanti anni è uscito un nuovo music video, ve lo lascio qui Qui o qui? Ve ne lascio un pezzettino E inoltre volevo dirvi che il 31 esce un nuovo singolo Il nuovo singolo si chiamerà Beyond This World E questa qua in realtà sono io che ricanto una vecchia canzone della mia band Il loro primo singolo, visto che sono dieci anni dal loro debutto Quindi canterò per la prima volta perché io ho sempre fatto tastiera con loro Questa canzone facendola in giapponese Per augurare comunque buona fortuna e DNR Che adesso hanno una nuova formazione E stanno per tornare più forti che mai Quindi non vedo l'ora di vedere cosa faranno una band Io purtroppo non ne faccio parte direttamente Però sarò sempre con loro indirettamente E magari qualche collaborazione, magari qualche music video Insieme lo facciamo perché comunque con Kira Che sarebbe bassista C'è sempre comunque stata una bella amicizia E rispetto reciproco Quindi se può capitare di fare qualche collaborazione Tenetevi pronti E quindi vabbè, correte a vedervi il video Iscrivetevi anche all'altro canale E grazie sempre sempre per vedere questi video L'anno prossimo prometto che mi dedicherò a fare molta 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 più musica Perché comunque il mio lavoro è fare colonna e sonora Ho detto cavolo devo fare anche delle canzoni con me Tra l'altro c'è una canzone che sono felicissimo di poter usare Che uscirà nel 2019 con una canzone che adoro L'ho scritta con tutto il cuore E l'avevo data per un film cinese Però per fortuna hanno scelto un'altra delle mie canzoni Ma non quella Quindi quella è rimasta Sapete io quando scrivete una canzone È come dare sempre un pezzo di voi a qualcuno E l'ho mandata Però quando l'ho mandata ho detto Cazzo la volevo per me E poi non l'hanno scelta Quindi che bello che potrò fare uscire quella canzone Quindi spero davvero che vi piacerà Anche se uscirà Sarà un annetto Uscirà tra tipo estate e l'anno prossimo immagino Però ve lo dico già Sarà una canzone che adoro E spero che vi piacerà Sarà proprio legata a questo periodo della mia vita In cui ci sono un sacco di cambiamenti Quindi è una canzone veramente importante per me Che spero vi piacerà E niente Quindi continuate sempre a seguire la mia musica Continuate a seguire i miei videolog E grazie sempre davvero E per tutto il sostegno E l'amore che mi date Perché anche mettere un mi piace Anche fare un commento Anche scrivermi su Telegram Ah tra l'altro c'è il gruppo Telegram Se volete seguirmi su Telegram Vi mando l'indirizzo Grazie davvero di cuore per tutto Perché per me è veramente importante Noi ci vediamo al prossimo video Ditemi che cosa ne pensate del music video Another World Falls Down Che c'è anche Kumiko E un abbraccione da Seba Ciao 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 Ciao